San Valentino porterà piogge e nevicate. È in arrivo una perturbazione atlantica che ci farà rispolverare gli ombrelli, ma che soprattutto porta un po' di ristoro al territorio, in sofferenza per la mancanza di piogge. Le grafiche IRPI-CNR indicano in rosso la mancanza di acqua nel terreno e quella della neve sulle montagne. Sono previste piogge a nord sul versante tirrenico e a sud, oltre a nevicate sulle Alpi, ma saranno anche possibili nel nord-ovest nevicate a bassa quota. Una pausa in quest'inverno, finora avaro di pioggia. La perturbazione che interesserà l'Italia, in particolare l'Italia centro-settentrionale, nella giornata tra il 14 e il 15 di febbraio, sarà purtroppo una parentesi che spezzerà questo lungo dominio anticiclonico, ma non lo sostituirà. Infatti a seguito di questo passaggio perturbato, torneranno condizioni meteorologiche sfavorevoli a precipitazioni significative. Pertanto l'alta pressione a partire dal 16-17 febbraio risulterà nuovamente prevalente su gran parte d'Europa e d'Italia e purtroppo le precipitazioni torneranno a mancare laddove servirebbero molto. Se innamorati o aspiranti tali potranno inveire contro Giove e Luvio, la perturbazione, viene accolta a braccia aperte da molti altri, a cominciare dalle campagne, anche se, a ben vedere, non c'è attività che non abbia bisogno di acqua e in particolare di acqua dolce. Quindi il cosiddetto maltempo in arrivo è in realtà una cosa buona, anche se non sufficiente per un ritorno alla normalità, anche perché per martedì è previsto il sole.